Ciao a tutti. Come sapete il Movimento 5 Stelle ha depositato una richiesta di impeachment per Giorgio Napolitano. L'attuale Presidente della Repubblica ha firmato per anni decreti palesemente incostituzionali, decreti che hanno favorito unicamente banche e lobby, ed ha preteso la distruzione delle telefonate nella trattativa Stato-mafia. Senza contare le clamorose rivelazioni di questi giorni in relazione alla nascita del governo Monti. Tutto ciò che noi avevamo chiesto era facciamo chiarezza, facciamo un'indagine. Invece il Comitato Parlamentare per i procedimenti d'accusa ha immediatamente insabbiato la nostra richiesta di impeachment per Napolitano senza neanche approfondire. Adesso abbiamo un'ultima chance. Solo la firma di 238 parlamentari potrebbe portare questa richiesta in aula, ma abbiamo bisogno del vostro supporto. Mi chiediamo di collegarvi al sito www.fallifirmare.org e di seguire le istruzioni per chiedere a tutti i parlamentari di firmare questo documento che permetterebbe lo svolgimento di una regolare indagine di accertamento. Noi chiediamo solo questo, trasparenza e onestà. Dateci una mano.